Su il sipario per Gubbio Dance Competition, manifestazione internazionale di danza voluta ideata dalla direttrice artistica Cecilia Monacelli e dal maestro e coreografo Francesco Annarumma. Quattro giornate dedicate allo studio, workshop, master audition e concorso internazionale con i migliori maestri e direttori delle più prestigiosi accademie e compagnie di danza. Tra i nomi Elena Filippieva, direttrice artistica Opera House Ballet di Kiev, Cristina Shishcarova, direttrice del Totem Dance Theater, Patrick Teschner, Ballet Master del Gartner Platz Theater di Monaco di Baviera, Rita Barao Suarez, insegnante portoghese della Contemporary Dance Technique Gram e il maestro accompagnatore pianista Flavio Pescosolido. Un evento voluto qui a Gubbio per dare un messaggio positivo dopo tutto questo periodo di difficoltà sia nel mondo della danza, nell'arte in genere, sia per il mondo diciamo in generale. Ripartire con questi ragazzi che sono qui venuti a Gubbio per poter studiare con docenti, coreografi, maestri internazionali, direttori di compagnie e di teatri per poter essere visionati per studiare, per crescere e perché no per avere delle buonissime occasioni e opportunità nel mondo della danza. Il maestro Anna Rumma è riuscito a creare una prima edizione degna di lode e di grande qualità perché è riuscito a invitare qui dei maestri veramente importanti e di notevole spessore. Ringraziamo anche le persone che ci hanno sostenuto, il Comune di Gubbio che ha creduto in questo progetto sin dall'inizio, la Fondazione Cassa di Risparmio senza la quale non sarebbe stato possibile realizzare tutto ciò. I nostri sponsor che comunque credono nella danza, credono nella cultura e soprattutto nella crescita dei ragazzi perché questo è lo scopo di Gubbio Dance Competition. Far ribrillare gli occhi ai nostri ragazzi, farli ripartire con speranze e sogni per poter continuare la loro crescita e la loro carriera fino al professionismo. Tra gli appuntamenti della Rassegna, lo spettacolo di danza contemporanea firmato Anna Rumma Dance Project, questa sera alle 21 al Teatro Ronconi. Ho provato ad aiutare ragazzi che hanno poche possibilità nell'esprimersi ovviamente con anche seri problemi, difficoltà perché vengono anche da realtà molto difficili. Quindi comunque ho cercato di creare un progetto per dare la speranza e la possibilità di una crescita e comunque di entrare dove noi amiamo stare, in teatro. Domani, domenica 14 novembre alle ore 17, sarà allestito il Gala Internazionale di Danza sempre a Ronconi che vedrà come protagonisti i vincitori del concorso, gli allievi, i maestri e ospiti internazionali d'eccezione, tutti sullo stesso palco Eugubino.